Musica Un cordiale saluto, buongiorno e ben ritrovati a tutti voi cari telespettatori di Fano TV Oggi è martedì 12 settembre e questa come di consueto è la rassegna stampa Tra poco vedremo quali sono le notizie più importanti sui due quotidiani che ogni giorno abbiamo qui sul nostro touchscreen Il resto del Carlino, l'edizione di Pesaro e Urbino e anche quella del Corriere Adriatico con l'edizione pesarese e uno sguardo anche alla provincia di Ancona Allora partiamo dal santo del giorno, poi vedremo le previsioni del tempo per la giornata di oggi Vediamo il santo di oggi, oggi la chiesa fa memoria, è una memoria facoltativa ma è una memoria quella del Santissimo nome di Maria A pochi giorni, a pochi giorni dalla natività che abbiamo celebrato, abbiamo ricordato l'8 di settembre Il sole è sorto alle 6.43 e tramonterà alle 19.25 Dicevamo del tempo, attenzione perché oggi pomeriggio la provincia pesarese, in particolare quindi l'area centro-settentrionale Qui è indicata anche la provincia di Ancona, sarà caratterizzata da temporali, rovescio temporale Oggi pomeriggio, nella seconda parte dunque della giornata, saranno probabili appunto questi rovescio temporali Con temperature che comunque saranno in aumento e i venti che nella prima parte saranno moderati da sud E poi dal pomeriggio invece moderati da nord-ovest, quindi oggi pomeriggio i temporali Domani invece il tempo è buono, domani mercoledì 13 di settembre avremo temperature in diminuzione Ma il cielo sarà sereno, poco nuvoloso su tutta la regione Marche Così come giovedì 14 settembre, temperature ancora in aumento Non ci saranno precipitazioni anche se le nuvole, il cielo sarà poco nuvoloso Con qualche addensamento più consistente giovedì a ridosso della montagna, a ridosso degli appennini Però soffieranno i venti, i venti saranno da sud-est lungo la costa, prevalentemente di moderata intensità Condizioni di variabilità atmosferica anche nel fine settimana con temperature in lieve diminuzione Insomma possiamo dire che ormai l'estate la possibilità di prendere ancora qualche raggio di sole Credo che stiano ormai diventando veramente poche queste possibilità Allora andiamo subito a vedere perché ieri c'è stata una giornata caratterizzata comunque da brevi ma intensi locali rovesci Che hanno causato qualche problema e difficoltà C'è il rischio addirittura idrogeologico elevatissimo a Pesaro dove il torrente genica Così scrive in primo piano il Carlino di Pesaro Il torrente genica ha esondato più volte Da anni si aspettano le vasche di espansione previste e anche finanziate e monitorate pure il fiume Foglia Poi sotto sempre per quanto riguarda il maltempo si è allagato un sottopasso a torrette di Fano E nel momento in cui l'acqua stava salendo si è infilata un'automobile Un'automobilista che ha rischiato grosso ed è rimasta in panne con il motore che si è fermato proprio sul più bello Lì al centro, Nubi Fraggio a Fano, chiusa la statale adriatica Lo vedremo tra poco Ecco poi sempre sul quotidiano, sul resto del Carlino di oggi C'è in primo piano la multa per l'acquisto fatto da un abusivo C'è il titolare di un supermercato che è tra i sette pesaresi che sono stati multati e sanzionati dai vigili urbani A un'ingiustizia, dice lui, non sapevo che ci fosse una legge, pagherà, pensate, 200 euro Per aver comprato da un abusivo, per aver comprato un capo che era in mano appunto a persone che non hanno nessun titolo Per poter vendere queste mercanzie E allora il boom dei mercatini invece è sempre nelle pagine interne del resto dei quali di questa mattina Richiamo in primo piano i nuovi agricoltori lo fanno per passione a chilometro zero Qui si parla di tutti quelli che vogliono mangiare cose prodotte in casa Così dicono sappiamo quello che mangiamo, sappiamo quello che ingeriamo E quindi la passione per l'orto possiamo definirla così Sempre in primo piano la stazione, preso Tyson, lo spacciatore seriale del parchetto Sempre sul Carlino Mentre il Corriere Adriatico in apertura parla della riforma questa mattina sanitaria Che è da azzerare, soprattutto punta su una questione politica C'è un affondo, un duro affondo contro il presidente del PD Ceriscioli In area vasta, a Urbino, dove si è parlato della riforma sanitaria I sindaci del PD sono rimasti in un sintomatico silenzio Di quelli che però fanno rumore Un silenzio fragoroso lo definisce il Corriere questa mattina E sulla politica della regione è arrivato il fuoco di fila Degli stakeholder della sanità pesarese La prima a dare l'affondo è Simona Ricci A nome del coordinamento CGL e Cisle Will di categoria Ha accusato la regione di essere del tutto indisponibile al confronto con le parti sociali In particolare nel pesarese che paga un prezzo altissimo E dopo di lei i rappresentanti dei lavoratori interni I comitati e i sindaci Dunque che cosa significa questo? Significa che sul tema della sanità probabilmente ci si giocherà tutto Nelle prossime elezioni che siano amministrative o regionali Ceriscioli sempre più solo? Probabile A centro pagina invece guardate che cosa ha fatto questo uomo Si è messo a trapanare un self service di un distributore di carburante Però è stato beccato, fotografato da uno che stava lì Che ha capito quello che stava maneggiando, quello che stava facendo quest'uomo E dunque fotografa i ladri con il telefonino, con lo smartphone E li incastra, fallisce il colpo alla stazione Agip In manette anche un pesarese di 60 anni È successo a Pesaro, lo troverete a pagina 9 L'articolo di Federica Serfilippi sul Corriere di questa mattina La pagina di Fano del Carlino invece è tutta dedicata Perché ieri è successo questo Di nuovo direte voi, sì Perché purtroppo è un problema annoso Quello degli allagamenti e sottopassi Anche con poca pioggia O comunque con breve ma intensa pioggia E allora di questo si parla sul Carlino Ma anche sul Corriere Adriatico Diluvia sottopassi come trappole Chiusa la statale adriatica tra San Lazzaro e la stazione Due auto e un camper si sono impantanati invece a Torrette Pure i turisti sono rimasti bloccati L'allarme è sempre nelle stesse zone In via Pisacane dove i titolari di diversi negozi Hanno tentato di proteggersi con i sacchi di sabbia E queste sono le fotografie Che il resto del Carlino pubblica questa mattina Dove abbiamo visto in alto appunto L'auto incastrata nel sottopasso a Torrette E poi qui sotto invece da sinistra Questa panda che è finita nel canale di Scolo E poi alcuni sottopassi che sono stati allagati Tutti i dettagli nel resto del Carlino di questa mattina Così come la pagina, tutta pagina Del Corriere Adriatico su questo argomento La città è finita di nuovo sott'acqua Chiuso il tratto urbano della statale Un'auto nel fosso Metauriglia E tre mezzi bloccati nel sottopasso di Torrette Che è rimasto allagato I dettagli nell'articolo di Massimo Foghetti Sollecitati i lavori per la sicurezza dei residenti Un cittadino rilancia il tema dell'interrogazione Per via della Fornace Andiamo sulla pagina invece di Valle del Cesano Dove ci sono gli effetti probabilmente anche del maltempo Quest'auto che ha sbandato e si è capovolta Soccorsa una giovane L'incidente vicino al posto di lavoro La ferita trasportata al Santa Croce di Fano È successo ieri, è accaduto ieri nel territorio di San Lorenzo In campo, poco dopo l'ex Aquater A Fano la prima pagina del Corriere è per il nuovo asilo C'è un nuovo asilo con gli orari più estesi Apre il centro per l'infanzia e il girasole Importanti lavori antisismici invece alla scuola Medianuti Samuele Mascarin che è l'assessore ai servizi educativi Dice quest'anno non avremo problemi con gli scuolabus Ci sono gli stessi autisti dell'anno scorso Ricorderete l'anno scorso i primi giorni è stato un disastro Gli autisti che non sapevano le strade cittadine Hanno tardato nel portare i figli a scuola E riportarli a casa con, potete immaginare, la preoccupazione dei genitori A Lido chiesti i lavori invece che andavano fatti a maggio Fumante, Enrico Fumante del Partito Democratico In calza l'amministrazione e rilancia le istanze dei residenti Oggi in consiglio anche la sicurezza di Via Nolfi Una petizione invece sempre a fanno per ottenere il ritorno di Anatre e Cigni Lungo il canale Albane Un'osia ornitologica nel canale Tre insegnanti avviano dunque una raccolta di firme Sui vaccini invece quasi tutti in riga Pressing sugli altri Siamo sul Carlino di nuovo L'85% ha rispettato la prima scadenza Consegnando ieri la documentazione nelle scuole Mascarina abbiamo verificato che chi non ha ottemperato l'ha fatto per motivi pratici Allora sono 900 i bambini tra 0 e 6 anni che frequentano i servizi scolastici comunali a Fano Allora a Pesaro c'è la fiera di San Nicola Credo che oggi siamo agli sgoccioli Ormai è quasi finita E c'è il racconto di questa disavventura Capitata a uno dei sette pesaresi Appunto che delle sette persone Che in questi giorni hanno comperato Per risparmiare evidentemente Merce da persone non autorizzate Quindi dai famosi Vucumpra Insomma da quelli che non sono autorizzati Ho comprato un paio di scarpe per l'orto Cento metri dopo sono stato multato per 200 euro Caccia a chi acquista merce contraffatta Lo sfogo dice è ingiusto Oltre al verbale c'è stato il sequestro anche delle calzature Pizzicate come dicevo sette persone in due giorni Il comandante della polizia di Pesaro Galdenzi Il comandante dice Gli abusivi sono diventati aggressivi Vanno evitati gli inseguimenti o le scaramucce in fiera Perché ci sono troppi rischi Ricordo, molti ricorderanno Una volta bastava che si vedesse una divisa E queste persone scappavano immediatamente Spesso lasciavano addirittura lì tutta la merce Adesso invece sono diventati aggressivi E' cambiato tutto anche qua Cioè non hanno più paura di nulla E affrontano con sfrontatezza Questi agenti di polizia che fanno chiaramente il loro lavoro Michele e Andrea legati alla vittoria Siamo a pagina 10 del resto del Carlino Il corridore di Borgo Massano capace di volare nel buio Grazie alla guida E dunque vince l'oro Il campione impiegato all'ufficio scolastico Dedica il podio al figlio Pietro E poi è una storia di vita Una storia di vita bella Straordinaria di quelle che fanno riflettere E poi sotto Diocesi a Pesaro Don Enrico neoparroco di Villa Fastigi Mentre i padri Renato ed Alvaro A Monbaroccio Solenne cerimonia di consegne tra sacerdoti Don Andrea resta alla guida di Sant'Angelo E di Ginestreto Ci sono stati dei cambi all'inizio di questo mese di settembre Anche nella Diocesi di Fano Questa sera nel telegiornale Occhio alla Notizia delle 20.30 Vi faremo vedere invece l'ingresso di due nuovi parroci Nelle chiese di Rosciano e Centinarola Dove da San Lorenzo è arrivato Don Federico E a Lucrezia il nuovo arrivo Che è un ritorno Perché c'è già stato a Lucrezia Il nuovo parroco Che è Don Marco Don Marco Mascarucci Che ha fatto il suo ingresso nei giorni scorsi Abbiamo ripreso questi due importanti eventi Per la comunità E quindi questa sera vi faremo vedere il servizio Ok andiamo adesso invece a vedere le ultime pagine Di questa nostra rassegna stampa Si parla di voragine a terre roveresche A fine ottobre i lavori conclusi L'annuncio del sindaco Sebastianelli A due anni esatti dal crollo sulla provinciale Operai al lavoro sulla strada provinciale 5 bis All'altezza di via Kennedy E poi a Urbino A Urbino sulla sanità Una riforma mai partita È un dramma Il grido dei lavoratori Dei sindacati e delle associazioni Intervenute all'assemblea di area vasta E poi di nuovo dal Corriere Dalla valle del Cesano Ancora mal tempo Due sottopassi allagati Marotta è tagliata in due Disagio e paura per la bomba d'acqua Ma in poche ore tutto è tornato alla normalità Un carico di traffico straordinario Al passaggio a livello ferroviario Dove per l'ansia qualcuno è passato addirittura con il rosso Allarme in via Dalmazzi Abbiamo visto i tombini non ricevere con il mare grosso Che sostanzialmente faceva da tappo L'ultima pagina è quella di Senigallia Anche qui ieri Senigallia ha vissuto momenti difficili Con la pioggia e il maltempo Case palestre e sottopassi allagati Senigallia rivive l'incubo alluvione La bomba d'acqua risveglia la paura Sotto controllo il Misa E a preoccupare sono le caditoie intasate Pesanti disagi per le precipitazioni Si sono registrate anche sul territorio di Monte Marciano La rassegna stampa finisce qui Vi ricordo che c'è un numero di telefono Per collaborare con la nostra redazione Eccolo qua 338 49 68 250 Ringrazio tutti i collaboratori Tutti coloro che ci segnalano Tutto ciò che accade intorno a loro Continuate a farlo Continuate a collaborare con la nostra redazione Così che possiamo informarvi Ogni giorno in tempo reale Su tutto quello che accade nel nostro territorio A voi tutti l'augurio di una buona giornata Ci vediamo stasera Grazie a tutti 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 Grazie a tutti